Sarà il comunale di Donforte in provincia di Enna ad ospitare la partita Gela Gladiator di domenica prossima a fischio d'inizio alle 15. Sarà l'ultima gara che i biancazzurri giocheranno su un campo neutro. La prossima infatti si disputerà regolarmente sul rifatto manto erboso del Vincenzo Presti, appuntamento previsto per domenica 9 ottobre nel derby con Ligea Virtus. Dunque un ultimo sacrificio per chi ama il club calcistico locale che dopo tre giornate di campionato in Serie D è andato oltre le più rose aspettative. Nassi e soci infatti forti dei sette punti fin qui ottenuti sono in condominio al comando della gradatoria. In una nota la società presieduta da Francesco Duccio sottolinea di conoscere alla perfezione le problematiche che hanno investito il terreno di gioco del nostro amato stadio Vincenzo Presti, problemi che in questi anni abbiamo affrontato e che adesso finalmente sono in via di risoluzione. Ogni filo d'erba di quel manto erboso è intriso dal sudore di noi tutti, soprattutto dei nostri gradiatori. Questo non può essere sottovalutato. Questa domenica però la gara Gela Gladiator, come dicevamo, si giocherà al comunale di Leonforte per permettere il completamento dei lavori sul sintetico del Presti. Un piccolo sforzo, l'ultimo della stagione, che affronteremo, si legge nella nota, con la consapevolezza che domenica a Leonforte non saremo da soli. Ci sarete, come sempre voi, i nostri splendidi tifosi che di certo non hanno paura di qualche chilometro. Solo per questa volta l'ossadennese sarà la nostra casa e il teatro di questa vincente gara di Serie D. Non dobbiamo dirci altro, continua la nota, salvo darvi appuntamento, domenica alle 15 a Leonforte. Noi con voi e voi con noi ovunque nel mondo. Forza Gela. Per l'occasione la società Biancazzurra ha sentito il bisogno di ringraziare la Lega Nazionale di Lettanti di Roma, il Comitato Regionale Sicilia e il suo presidente Lopresti, le società Leonfortese e Football Club Motta, per avere permesso al Gela di poter disputare questo importante match nella loro struttura sportiva. Per la partita di domenica, sia i tifosi gelesi che quelli che arriveranno dalla campagna pagheranno 10 euro. Ai supporters Biancazzurri è stata riservata la tribuna coperta, agli ospiti la gradinata.